Evento di grande originalità culturale e di forte impatto, soprattutto sul versante dei nuovi media, è stato presentato dal Comune di Pordenone nella prestigiosa cornice di Palazzo Badini in piazzetta Cavoura Pordenone. Direfare.pn.it, che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre, prevede incontri, forum, workshop, a cui parteciperanno in particolare 20 cittadini pordenonesi che per studio o lavoro risiedono in altri paesi del mondo. Il sindaco di Pordenone, Sergio Bolzonello. Direfare.pn.it, un evento molto importante per la nostra comunità. Ci ritroviamo qui a Palazzo Badini, che riapre dopo l'acquisizione da parte del Comune, dopo i restauri che sono stati fatti, prima di essere consegnato all'università. Qui ci sarà infatti il Dipartimento di Scienze Multimediali. Lo apriremo il 2, 3, 4 di dicembre per un incontro dei nostri giovani pordenonesi che lavorano all'estero. Un incontro con le nostre aziende, con i nostri studenti, con le eccellenze di questo territorio. Scambio di opinioni, scambio di esperienze, capacità di guardare al futuro attraverso la voce di questi ragazzi che si stanno contraddistinguendo all'estero e con la voce delle nostre aziende e delle nostre eccellenze del territorio. Un confronto molto importante da cui sicuramente verranno fuori dei spunti su cui riflettere per il futuro della nostra comunità.